A presa la notizia dell'assassinio di cui è stato vittima il presidente di Haiti, Papa Francesco ha inviato un telegramma di cordoglio in cui esprime le sue condoglianze al popolo haitiano e alla sua sposa, gravemente ferita. Un atroce assassino sono le parole con cui il Papa ha commentato l'omicidio del presidente di Haiti, Jovenel Moïse, avvenuto a Porto Prense nella notte tra il 6 e il 7 luglio. Con un telegramma firmato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, Bergoglio condanna ogni forma di violenza come mezzo per risolvere crisi e conflitti. Nel messaggio il pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli dopo l'intervento di stenosi diverticolare, porge le sue condoglianze al popolo haitiano e alla moglie gravemente ferita nell'agguato. Papa Francesco esprime la sua tristezza per questo fatto di sangue e augura al caro popolo haitiano un futuro di armonia fraterna, solidarietà e prosperità. Come segno di conforto, si legge a conclusione del messaggio, invoca l'abbondanza delle benedizioni divine su Haiti e su tutti i suoi abitanti. Intanto Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa Vaticana, informa nel consueto bollettino che nonostante la febbre inserata, ieri il Santo Padre ha trascorso una giornata tranquilla, alimentandosi e muovendosi autonomamente. Nel pomeriggio ha manifestato la sua vicinanza ai piccoli del vicino reparto di oncologia pediatrica e neurochirurgia infantile. Questa mattina invece è stato sottoposto agli esami di routine e a un attack risultata negativa. A conclusione, nel bollettino, si legge che Bergoglio rivolge la sua vicinanza agli ammalati, specialmente ai più bisognosi di cure.